Stiamo lasciando Genova, ci avviciniamo a Civitavettia, tornando verso casa, un po' male in cuore, ma la città ci ha fatto compagnia, siamo stati benissimo e torno a dire venite a vedere Genova, merita dall'acquario, dal Nazario Sauro, la città del mare, i templari all'interno, c'è tutto quello che si può desiderare per fare un mini weekend. Salutiamo Genova, Viaggio e Veto, Radio Vacanze, 24 ottobre, a Morrodi, MSC Musica.